Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del nostro telegiornale dedicata alla politica. E' stato eletto il nuovo organo garante del Meetup Gela Comune a 5 Stelle, pieno appoggio al sindaco Domenico Messinese con l'esortazione ad andare avanti per il bene della città. Sentiamo. Grazie a Pizzardi, Ivan Muncibi, Emanuele Gaspare Bonaventura, Aurora Sciandra e Vincenzo Iapicaello sono i componenti del nuovo organo garante del Meetup Gela eletto dall'Assemblea degli Attivisti secondo il regolamento vigente. Nel corso della riunione inevitabilmente è stata affrontata la questione relativa alla situazione che si è venuta a creare a seguito della sospensione del sindaco Domenico Messinese dal Movimento 5 Stelle. A questo proposito il Meetup Gela Comune 5 Stelle si legge in una nota inviata alla stampa a firma di Grazia Pizzardi alla luce dell'impegno che il sindaco e l'amministrazione ha profuso in questi sei mesi per iniziare a dare risposta ai problemi determinati da vent'anni di mala politica che non è riuscita a dare alcuna prospettiva di nuovo sviluppo ai gelesi ritiene risibili e speciose le motivazioni per la sua sospensione dal Movimento addotte dallo staff di Grillo che ha fatto propri i precisi input di personaggi locali, provinciali e regionali che non amano Gela. Il Meetup Gela Comune 5 Stelle ritiene che la voglia di cambiamento espresso dai cittadini non sia venuta meno e il sindaco e la sua amministrazione senza miracolismi, leggiamo ancora nel documento, stanno lavorando per interpretarne la genuina richiesta senza tuttavia sventolare una bandiera che per alcuni attivisti avversi e qualche ex assessore è divenuto uno scudo per imbrigliare il sindaco in giochi di potere tendenti ad affermare interessi personalistici che nulla centrano con l'interesse generale della città. Arriva poi l'affondo nei confronti dei consiglieri comunali che hanno preso le distanze dal primo cittadino e dalla sua giunta. Il Meetup Gela Comune 5 Stelle con rammarico prende atto della decisione di quattro consiglieri del Movimento 5 Stelle che in consiglio comunale sono passati all'opposizione del sindaco, scrivono ancora i componenti del Meetup Gela Comune 5 Stelle tenendo un atteggiamento di contrasto all'amministrazione fin dai suoi primi passi. Consiglieri che tradendo il mandato ricevuto dai cittadini si sono accordati con una frazione del Partito Democratico per spartirsi le presidenze delle commissioni consigliare e i componenti del Collegio dei Revisori. Atteggiamento contrario a quello che è previsto nel programma elettorale presentato ai Gelesi e ai principi costitutivi del Movimento. Il sindaco e la sua amministrazione hanno tutto il tempo necessario per dare attuazione e forza al programma di cambiamento presentato ai cittadini aprendo un confronto con tutti i consiglieri, le forze politiche, i movimenti civici e l'associazionismo attivo presenti in consiglio comunale nella città per agire nel comune intento di fare uscire la città dalla palude in cui si trova. Successivamente a questa fase di comuni intenti si tireranno le somme e nel caso si darà il potere ai cittadini di esprimere il loro giudizio sull'amministrazione che si manifeste in un solo modo, le elezioni. Il meetup Gela Comune a 5 Stelle invita quindi il sindaco e la sua giunta ad andare avanti nell'attuazione del programma del Movimento 5 Stelle presentato agli elettori sapendo che in quel programma ci sono molte delle soluzioni per risolvere i problemi della città candidandola ad essere una bella, prosperosa e vivibile città di pace, porta europea del Mediterraneo conclude Grazia Pizzardi. Dopo settimane di fuoco incrociato dunque per il primo cittadino arriva l'appoggio ufficiale con un documento del meetup Gela Comune a 5 Stelle in attesa che il ricorso di Messinese avverso la decisione di espulsione dal Movimento 5 Stelle venga esitato. La partita dunque è ancora aperta. A qualche settimana dunque dall'espulsione del sindaco Domenico Messinese dal Movimento 5 Stelle si attende adesso che il ricorso del primo cittadino venga esitato. Intanto l'azione amministrativa continua con la piena fiducia del meetup Gela Comune a 5 Stelle. Sentiamo. Avanti tutta al fianco del sindaco Domenico Messinese è questa l'esortazione del meetup Gela Comune a 5 Stelle. Questo sicuramente fa piacere ma soprattutto dimostra che Gela ha tutta una serie di sfaccettature. C'è chi tenta essere costruttivo ed analizzare quello che realmente si sta facendo e quali sono gli obiettivi all'interno del programma e chi realmente li sta seguendo, chi li vuole raggiungere. Chi invece vuole tutto e subito, cosa un po' difficile da raggiungere. Comunque credo che siano tanti gelesi che abbiano compreso che l'attività dell'amministrazione è quella di aver preso in mano una città con seri problemi, problemi atavici che giustamente non sono di immediata risoluzione. E intanto il primo cittadino attende che venga esitato il ricorso contro la sua espulsione dal Movimento 5 Stelle. Il ricorso l'ho fatto non tanto per dare una risposta allo staff di Beppe Grillo che dalle dichiarazioni fatte da diversi esponenti è sempre più che altro una mera formalità ma per comunicare alle tante persone per bene che credono nel Movimento 5 Stelle quali sono le motivazioni vere. Che le motivazioni che sono state adotte sono sostanzialmente ipocrite e non portano alla verità e che la verità è perché il sindaco di Gela ha deciso di cambiare degli assessori di cui non riponeva più la sua fiducia e che lo ha fatto per poter dare delle risposte alla città di Gela. E credo che tra dare risposte a organi di partito o ai cittadini di Gela io non ho dubbi, preferisco dare delle risposte certe ai miei concittadini. Continua nell'emore l'azione amministrativa. Ieri il sindaco e alcuni componenti della giunta hanno incontrato i residenti del quartiere Settefarine. Abbiamo incontrato i residenti di Settefarine come abbiamo già incontrato i residenti di Manfra, Macchitella, di Cantina Sociale. La cosa importante è continuare questo rapporto con i cittadini perché la città non è dell'amministrazione ma dei cittadini gelesi. Quindi questi momenti di incontro dove magari ci può essere anche la possibilità di sfogarsi per i tanti disservizi che negli anni si sono accumulati ma servono anche per fare il punto di quali sono gli obiettivi più importanti da perseguire e quindi per l'amministrazione diventa fondamentale come strumento di indirizzo per dare quelle risposte che in tanti danni aspettano e che fino ad oggi non hanno avuto nessuna risposta effettiva. Uno studente della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Messina è un nuovo stagista del Comune di Gela. L'ente amministrato dal sindaco Domenico Messinese ha infatti siglato una convenzione anche con l'Ateneo Peloritano per consentire dei tirocini formativi e di orientamento nella pubblica amministrazione gelese. Lo stagio è un periodo di formazione rivolto a studenti e specializzanti durante il periodo di studi e neo laureandi entro 12 mesi dal conseguimento del titolo. Lo stagio può avere una durata massima di 12 mesi per gli studenti e 6 per i laureati. Questi ultimi devono iniziare il loro tirocino entro 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico maturato. Nel percorso formativo entrano anche il tutor universitario, cioè un docente dell'Ateneo e il tutor aziendale che guidano e seguono lo stagista nello svolgimento del compito previsto. Già lo scorso mese di ottobre il Comune di Gela aveva sottoscritto le stesse convenzioni con l'Università di Palermo, Catania ed Enna. Il punto nascita di Mussomeli non si tocca, va mantenuto così come quello di Bronte. Lo sostengono i sindacati CGL e Cislewil che intanto annunciano la loro partecipazione alla mobilitazione per giovedì prossimo a Mussomeli. Sentiamo. Si è svolto ieri come previsto un vertice in prefettura sulla complessa vicenda che riguarda l'imminente chiusura del punto nascita dell'ospedale di Mussomeli. Va mantenuto esattamente come a Bronte. lo Stato si svegli. Esordiscono così in un documento i rappresentanti di CGL e Cislewil della provincia di Caltanissetta, congiuntamente alle categorie ed RSU della Funzione Pubblica che esprimono un giudizio positivo in relazione all'incontro. CGL e Cislewil insieme ai sindaci dei comuni del Vallone e della provincia hanno sottoscritto un documento inviato alla Presidenza della Regione Siciliana, all'Assessorato alla Sanità, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e al Ministero della Salute, evidenziando l'assurdità contenuta nella normativa nazionale e recepita dalla Regione Siciliana, che di fatto non tiene conto dei contesti territoriali, tanto che Mussomeli, pur essendo comune montano, è marginato infrastrutturalmente centro sanitario di interesse di decine di piccoli comuni di tre province, Caltanissetta, Grigente e Palermo, che di fatto storicamente hanno rappresentato l'utenza dell'ospedale, spiega negnazio giudice Emanuele Gallo e Vincenzo Mudaro. Il direttore generale ha dichiarato che il punto nascita dal 1 gennaio non è chiuso, ma è sospeso in attesa dell'evoluzione normativa, ma per renderlo sicuro è necessaria un aderoga attraverso un decreto assessoriale ed una messa in sicurezza del costo di quasi 3 milioni di euro. È evidente che l'ASP da sola non sarà in grado e necessita di un investimento da parte della Regione, concludono i sindacalisti, CGL e Cislewil hanno così annunciato la loro partecipazione alla manifestazione indetta per giovedì a Mussomeli. Sicilia Acque ha comunicato che a partire da questa mattina sono cominciati i lavori di riparazione di una perdita che si è verificata in contrada ad Esusino e così di conseguenza è stata interrotta la fornitura nelle zone marine denominate Tè Nutella e De Susino. Sicilia Acqua prevede di ripristinare le normali erogazioni entro il 14 gennaio prossimo. Open day all'Enrico Solito per mostrare le attività e l'offerta formativa ai genitori che intendono scrivere i propri figli in questa scuola. Una scuola davvero all'avanguardia? Sì, una scuola veramente all'avanguardia. I genitori sono sempre più esigenti, vogliono sapere ed è giusto che ogni scuola possa fare vedere la propria offerta formativa. La nostra scuola ha tanti laboratori, tante innovazioni che in questi ultimi anni sono passati. Passare per le nostre aule o per i nostri laboratori, perché le nostre aule sono dei veri laboratori. Vedere i bambini che lavorano con i tablet, con le limb, oppure vedere i nostri bambini che durante l'orario curriculare fanno musica suonando le chitarre, i flauti o andare in balestra dove c'è animazione è una cosa molto bella e penso che il genitore debba essere convinto sulle scelte che fa perché sono scelte importanti. La scuola primaria o addirittura la scuola di immanzia, credo che si possa dire che sia la scuola non solo di base, ma sono le fondamenta che si danno ai bambini. Da lì parte quello che sarà il loro curriculum scolastico, quello che loro diventeranno. E io penso che la nostra scuola, sia con il corpo docente che ha, sia per le attività che fa, sia per la presenza continua dei genitori nelle manifestazioni, la loro partecipazione, sia proprio una bella scuola. Noi domani continueremo l'open day a Cantina Sociale, avremo la possibilità di fare conoscere anche lì la nostra offerta formativa. È previsto per giovedì 14 gennaio prossimo l'open day alla scuola Enrico Solito, diretta da Clizia Nobile. La giornata comincerà alle 9.30, mentre la stessa giornata di open day si svolgerà il 20 gennaio venerdì prossimo al plesso Cantina Sociale, a partire dalle ore 10. Sono aperte naturalmente le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. E sono aperte le iscrizioni al primo corso Sabex Rec dell'anno 2016, valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande. Il corso, autorizzato dall'assessorato regionale delle attività produttive, sarà avviato entro il mese di gennaio e si svolgerà presso la sede della Confcommercio Ascom Gela, in via Cicero nel numero 104. Tutti gli interessati dovranno effettuare l'iscrizione al corso e entrano non oltre il 22 gennaio prossimo presso la segreteria del Confcommercio Ascom Gela da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. C'è anche un numero di telefono 0 933 93 97 18. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Dopo i successi al Teatro La Fenice di Venezia, il pianista gelese Alberto Ferro, allievo dell'Accademia Pianistica Siciliana, suonerà al Bozar di Bruxelles e alla Filarmonie di Lussemburgo il 18 e il 19 gennaio prossimi. Bozar è il centro di belle arti belga, è aperto le sue porte nel 1928 e sorge proprio al centro di Bruxelles e rappresenta il fiore all'occhiello per le belle arti del Belgio, un luogo artistico e prestigioso e fu il primo centro culturale del suo genere ad essere costruito in Europa. La Filarmonie di Lussemburgo, sede della Filarmonica Orchestra del Lussemburgo, fin dal 2005, anno della sua inaugurazione, punta alla valorizzazione dei giovani talenti nelle arti culturali e musicali. Il 19enne Alberto Ferro, ottenuto nel corso del 2015 un primo posto alla 32esima edizione del Premio Venezia, un secondo posto al 60esimo concorso internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano. Otto buone ragioni per rimuovere gli alberi di Ficus da Piazzo Umberto I a Gela. Le ha elaborate il presidente dell'Archeoclub d'Italia, Nuccio Mule, che spiega, tra le altre cose, che i danni procurati dalle radici degli stessi alberi sono notevoli e che causano il dissesto continuo della pavimentazione della piazza che andrebbe continuamente ripristinata. Sentiamo. Professore Mule, sono ormai anni che lei chiede la rimozione degli alberi di Ficus di Piazzo Umberto I e spiega anche otto validi motivi. Quali sono questi motivi? Innanzitutto devo dire che dagli anni 90 ogni amministrazione che cambia, l'Archeoclub, sulla base delle esigenze dei cittadini, perché non è che se le sogna dall'oggi al domani queste denunze, quindi sulla base della richiesta di migliaia di cittadini, dagli anni 90 in poi ogni amministrazione che cambia fa la solita lettera di eliminazione di questi alberi. Fino ad adesso non ci siamo riusciti. Adesso con questa nuova amministrazione ho fatto una lettera aperta in cui espleto tutta una serie di situazioni, in particolare otto motivi che a nostro modo di vedere, non solo a nostro modo di vedere, consentirebbero la restituzione alla città di questo salotto di Piazzo Umberto I che è stato sotto l'aspetto del decorurbano e non solo sotto l'aspetto del decorurbano, ridotto ai minimi termini. Possiamo passare velocemente, rassegna questi otto motivi. Sono otto motivi, il fatto che non si riescono a vedere nella loro integrità i palazzi storici prospicenti alla piazza, compresa la Chiesa Madre, anzi quei due alberi che hanno tolto già consentono una buona visione della Chiesa stessa. Poi dal punto di vista della riduzione della superficie della piazza che sembra molto piccola perché le come di questi alberi l'hanno completamente stravolta e poi altre situazioni, però ce n'è una importante che a mio modo di vedere rappresenta un'emergenza sanitaria perché gli escrementi degli uccelli una volta che si essiccano, si polverizzano, vengono respirati e poi peggio ancora per chi ci passa sopra, si porta presso sotto la sola delle scarpe questi escrementi e quindi va a contaminare possibilmente anche il pavimento della propria casa. Quindi a mio modo di vedere e sarebbe ora che finalmente questa amministrazione rispetto alle altre mettesse in opera l'eliminazione di questa indecenza che poi si riduce a un decoro urbano vero e proprio. Sarà allestita una mostra fotografica e di paramenti sacri nel decimo anniversario dalla dipartita di Don Franco Cavallo presso i granai di Palazzo Ducale dal 16 al 24 gennaio prossimo. L'evento è a cura di Franco Pardo in collaborazione con Croce Attardi. Esporranno gli artisti Gina Pardo e Pino Polara. La mostra patrocinata dal Comune di Gela potrà essere visitata dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Salviamo il salvabile è la commedia brillante che la compagnia Sipario 21 e l'Associazione Demetra porteranno in scena sabato 16 gennaio prossimo alle ore 21 al Teatro Eschilo di Gela. La regia è affidata a Maurizio Nicastro. Continuano gli appuntamenti col grande jazz al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Venerdì 29 gennaio prossimo andrà in scena Fabio Concato. L'inizio dell'evento è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 oppure chiamare i numeri di telefono 0 933 911 892 345 5880 580. Stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Sergio Vespertino e Ernesto Maria Ponte. Lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18 e 30 alle 20 e 30. Prossimo spettacolo domani con Sergio Vespertino. Continuano gli appuntamenti musicali inseriti nel programma Natale 2015 Capodanno 2016 organizzati dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela preseduta dal maestro Crucifisso Ragona. Domenica 17 gennaio prossimo alle 19 concerto del trio Antonella Callea al flauto Lucia di Mora al violino. Salvatore Gaglio al pianoforte. Sono aperte le iscrizioni per i nuovi aspiranti volontari e pionieri della pubblica assistenza Procivis di Gela diretta da Luca Cattuti. I volontari del soccorso si impegnano personalmente in un servizio di solidarietà per la propria comunità. Sono componenti attivi di un'organizzazione integrati in un sistema organizzato come quello del soccorso sanitario e della protezione civile. Per maggiori informazioni sulle iscrizioni ci si può recare presso gli uffici di Viossidiana numero 23 ogni giorno dalle 15.30 alle 20.30 oppure chiamare il numero 0933 93 83 12 o inviare una mail all'indirizzo p.a.procivis-tiscali.it. Sarà possibile iscriversi fino al 31 gennaio. Il corso di formazione pratica e teorico proseguirà per 18 mesi. La Lions Dance conquiste il campionato provinciale Fizza a Caltanissetta. Sono state le cinque coppie portate in gara nelle danze latinoamericane che hanno conquistato tutte il primo posto nelle rispettive categorie. Salvatore Runze e Alicia Voddo 8-9 anni C3, Gabriele Corfu e Bernadette Di Dio 10-11 C3, Stefano Castelletti e Flavia Labiso 12-13 C, Cristian Di Bartolo e Sofia Storiale 16-18 B3, Tommaso Russelle e Alessia Vullo 19-34 C. Le coppie sono seguite da maestri Desiree Minelli, Antonino e Mirko Runza. Inizia con buoni risultati la stagione 2016 per gli associati dell'Atletica Gela presieduta da Luigi Morselli. Nella maratonina internazionale di Ragusa con 450 partecipanti provenienti da tutta Europa, strepitosa prestazione per Laura Granvillano. Prima categoria che si è classificata quarta donna assoluta al traguardo, terzo posto di categoria per Carmelo Ferrera, settimo posto per Luigi Bentivegna. Buone prestazioni per Luigi Morselli, Antonio Rinziville e Felice Bevilacqua. Tutti i devoti che si accingono a preparare la tradizionale cena di San Giuseppe del 19 marzo prossimo dovranno recarsi presso la chiesa di Sant'Agostino per potersi registrare. Lo hanno comunicato i padri Agostiniani. Infine siamo all'informazione cinematografica e uno per tutti. Il film in programmazione al Cineteatra Antidoto di Macchitella. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola. Ve li ricordiamo 17.30, 19.30 e 21.30. Con il cinema è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale. L'indirizzo web www.tg10.it Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è costantemente aggiornato. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.